Ha confermato le sue dimissioni da assessore all'agricoltura Leonardo Di Gioia da tre anni e mezzo al timone di una delle deleghe più importanti e problematiche della regione Puglia. Le ha confermate anche dopo il colloquio di ieri pomeriggio con il governatore Michele Emiliano, che pure si era affrettato a respingere le dimissioni già quando Di Gioia le aveva annunciate sul suo profilo Facebook. Nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina Di Gioia ha spiegato perché ritiene non ci siano le condizioni per continuare a guidare l'assessorato. In un intervento di oltre un'ora ha ammesso le sue responsabilità arrivando a dire che questo gesto di lasciare la delega è tardivo. È una questione di dignità, puntualizza, perché non solo Emiliano lo ha esautorato dal ruolo di fronte ai gilet arancioni ma ha la responsabilità di non aver mai consentito gli interventi necessari per far funzionare l'assessorato. Non si può fare diciamo finta di arrivare, di avocare e di risolvere quanto sia stata parte attiva di quelle che sono le decisioni che sono state assunte. Allora io con grande dignità piuttosto che continuare questo tipo di lavoro nel quale probabilmente non è in discussione il fatto che io voglia o non voglia fare l'assessore ma sul fatto che sia inutile da un certo punto di vista in poi avere un assessore se non con strumenti straordinari su questa materia dico rassegno le dimissioni. Do al presidente la delega così assieme alla sanità assieme a tutte le deleghe che mantiene alla responsabilità politica complessiva valuta direttamente quello che è assolutamente irrealizzabile in questa in questo assessorato se non con un intervento fuori dal comune dobbiamo potenziare il personale e lo si deve fare subito bisogna chiarire se ci sono meno le risorse e bisogna farlo subito bisogna far ripartire due nuovi bandi al di là di quelli incagliati al tar e bisogna farlo subito bisogna mettere nuovi dirigenti bisogna cambiare la dinamica politica connessa al rapporto tra questo assessorato e gli altri se la priorità che la regione si impegni come prevalenza sull'agricoltura se una priorità veramente che si faccia straordinariamente quello che fino ad oggi non si è riusciti a fare. Ci vuole maggiore credibilità da parte di Emiliano ammonisce di gioia perché come nel caso dell'Axilella è passato da una posizione all'altra con troppa disinvoltura. Una dinamicità anche qui del presidente che ha ritenuto io credo in quel caso legittimamente di dare ascolto anche a quelli che pensavano che le carezze agli alberi fossero una questione risolutiva.